Noi oggi siamo costretti a conferire a San Giovanni in Piora attraverso Calabria Maceri. Tutto questo a noi produce, proprio perché non possiamo andare a Pianopoli, perché i grandi volumi non possono scaricare, a sostenere un costo aggiuntivo rilevante, quasi 40 euro a tonnellate in più, in aggiunta all'oneroso costo che dobbiamo sostenere sia come risorse da trasferire all'ufficio del commissario, ossia per quanto riguarda il pagamento della discarica. E l'allarme lanciato da Giuseppe Aulicino, sindaco di Santa Maria del Cedro, dove il 19 settembre partirà la raccolta differenziata dei rifiuti domestici porta a porta. In questi giorni stiamo distribuendo il materiale per intensificare la raccolta differenziata. Siamo a una percentuale del 26,50, attestato dall'ufficio stesso, dall'ambiente, proprio per questo motivo ci è stata data, assegnata la seconda tranche di finanziamento e contributo dalla regione per la raccolta differenziata. Il 19 dobbiamo partire. Il Comune di Santa Maria non ha vissuto una particolare emergenza perché la raccolta dei rifiuti è gestita direttamente dall'amministrazione che ha anche un sito di trasferenza. L'aver anticipato un po' questa situazione di crisi profonda ci ha portato anche ad attrezzarci notevolmente, prendendo cassonette e container in affitto, acquistando container, alcuni dei quali ancora non ce li hanno portati, ne abbiamo acquistati sette. Il nuovo sistema di raccolta, ampliamente spiegato in un'ordinanza emessa lo scorso 29 agosto, dove vengono riportate le modalità del ritiro dei rifiuti, servirà a rendere più efficiente il servizio di igiene urbana. La raccolta differenziata darà una mano se tutto funzionerà, se gli imbianti saranno aperte, se gli imbianti saranno in grado di assorbirlo. Darà una mano a noi, darà una mano all'ambiente, al territorio. Il ritorno sarà per i cittadini.